Iniziamo con questa terza e ultima puntata sulla fisica di Ettore Majorana, questa volta il lato invisibile perché, come dicevo nella prima di queste lezioni, la maggior parte delle cose riguardo gli argomenti fisici di Majorana è rimasto non pubblicato per sua volontà sostanzialmente, ma per fortuna sono conservate le carte e quindi studiando uno può farsi un'idea che come vedremo va ben al di là di quello che abbiamo raccontato la volta scorsa. Allora, l'opera di Majorana ha conservato giusto un piccolo reminder di quello che vi dissi la prima volta, parte dei dieci articoli pubblicati che abbiamo visto in dettaglio la volta scorsa e le lezioni di fisica teorica a Napoli, gli appunti del corso e la tesi di laurea che abbiamo visto, che vi ho accennato nella prima lezione, poi ci stanno 5 volumetti, cioè 5 quaderni insomma, che ammontano a circa 500 pagine, 18 altri quaderni sono divisi perché, come vedremo, i volumetti sono molto ben strutturati e organizzati dallo stesso Majorana, proprio sotto forma quasi di volume con gli indici eccetera, come vedremo, invece quelli che chiamiamo i quaderni, no, sono quaderni più, diciamo, meno organizzati mettiamola così, e qua sono circa 2.800 pagine, e poi ci sta centinaia e centinaia di pagine fogli sparsi in cui Majorana faceva i conti brutti, diciamo così, e qualcosina ci abbiamo anche, di fisico ovviamente, ci abbiamo anche delle lettere in particolare, le lettere allo zio Quirino, quello di cui discuteremo oggi è qualche aspetto che è contenuto nei volumetti e nei quaderni, ho giusto due paroline, i volumetti appunto come vedete da quella, quella è la prima pagina del primo volumetto e come vedete è l'indice del quaderno fatto da Majorana col numero delle pagine eccetera. I volumetti, diamo una scorsa rapida sul contenuto, qua ho riprodotto l'intero indice di tutti i volumetti, sono anche datati tra nell'ultimo e sono scritti più o meno nel giro di un anno. Questa data, 8 marzo 1926, è riportata nei volumetti, più o meno corrisponde alla data di conclusione della stesura del volumetto, mettiamola così. E quindi il primo e il secondo volumetto si aggirano agli anni in cui frequentava l'università, infatti qua lo si vede perché ci stanno argomenti che studiava qui alla sapienza, elettromagnetismo, termodinamica eccetera, effetto pellicolare eccetera. Non mancano cose anche abbastanza originali che probabilmente venivano in mente a lui, seguendo la lezione eccetera, per esempio qui giusto per citarne uno, l'influenza di un campo magnetico sul punto di fusione, che è una cosa che ancora un po' si studia e questo non veniva trattato a lezione, oppure altre cose, di fisica terrestre eccetera. E qua vedete, diciamo, incomincia a comparire qualcosa, uno di teorie dei gruppi della riformazione conforme, diciamo, alla lontana, e poi un meccanico ondulatore al punto materiale, perché evidentemente, questo è prima dell'incontro con Fermi, e certamente non si studiava, non aveva seguito il corso di Fermi a quest'epa, però evidentemente si interessava da solo, e d'altra parte qui frequentava la biblioteca, come sappiamo benissimo. E poi nel secondo volupetto si incomincia ad entrare più o meno nel vivo. Qui l'incontro con Fermi, che vi ho racconato la prima volta, lo si vede, ecco qua il numero 8, funzione di Fermi, qui è dove fa vedere che vi ho racconato la prima volta, la volta l'incontro con Fermi sulla soluzione dell'equazione di Domas Fermi. E poi vedete che fa anche un bel po' di applicazione. E poi anche fisica atomica, molecolare, sempre frammista ad argomenti, diciamo, da studente. Mettiamola così, perché ovviamente era ancora studente. Va bene, insomma, il volumetto 3, lui si lavora, se vi ricordate, nel luglio del 29, quindi qua siamo più o meno alla fine del suo percorso scolastico, diciamo così, universitario. E però incominciano a comparire anche altre cose più pesanti di teoria dei gruppi, perché esce il libro di Weil e lui se lo legge se ne innamora sostanzialmente. E qui, vedete, gruppo delle rotazioni, gruppo di Lorenz, matrici di Dirk, eccetera, eccetera. E poi il quarto è bello, pieno zeppo di queste cose, anche di applicazioni della meccanica quantistica, formula di Rutherford, simmetria cubica, appunto, tutte cose collegate alla teoria dei gruppi. E qua ci sono anche cose interessanti di stati quasi stazionari, che vi accennai la volta scorsa sull'articolo pubblicato, ma qua, diciamo, le cose vanno ben oltre quello che stava pubblicato. E poi il volumetto 5, che non regala data, ma tra il 31 e il 32. Perché? Perché come vedete dal secondo punto, urto fra protoni e neutroni. Usa proprio la parola neutroni. Che è vero che è stata ingentrata un bel po' di tempo prima, ma per altre cose, però. L'urto fra protoni e neutroni è proprio lo scattering tra due nucleoni, come lo intendiamo oggi, fatto, diciamo, alla maniera sua. E quindi doveva essere già stato scoperto il neutro. No, qua no, qua no, qua no, qua no. No, qua no. E quindi è prima dell'articolo del 33. Sì, sì, sì. No, è sicuramente prima del 33. Sarà subito dopo, insomma. E vabbè, e altre cose. Allora, questo è giusto per darvi un'idea. Invece, per quanto riguarda i quaderni, anche qui, diciamo, copriamo un ambito che va dalla sua carriera universitaria fino, anche qui, 32, 33. Quasi nessuno è datato, quindi qua è più difficile attribuire, però, diciamo, più o meno sempre questo ordine temporale. Anche qua, qui non c'è l'elenco degli argomenti, quindi i nomi, cioè li ho messi io, diciamo io, recami, insomma. E ho selezionato alcuni argomenti di studio, giusto per darvi un'idea. Fisica classica che studiamo qui a Via Panisperna, effetto termoionico, eccetera. Però anche masse elettromagnetiche dell'elettrone, che era un contributo che aveva dato Fermi, se vi ricordate. Fisica matematica a Iosa, perché seguì il corso di Levi-Civita, simboli di Christoffel, Riemann, identità di Bianchi, eccetera. Alcuni argomenti di ricerca che trovate, li ho raggruppati per macro-argomenti. Fisica atomica, gli atomi con due elettroni che abbiamo visto, poi è confluito in articoli pubblicati, ma anche qualche accenno atomico tra elettroni, in particolare al litio e tante altre cose. Insomma, appunto, ne ho citati solo alcuni, perché 18 quaderni, appunto. Fisica molecolare, a parte la molecola di Elio e dell'idrogeno, l'ione molecolare, che abbiamo già visto la volta scorsa, qua per esempio troviamo anche un accenno di calcolo ai modi vibrazionali dell'acetilene, chissà per quale motivo, che è la molecola di C2H2, chissà per quale motivo. Probabilmente perché qualche suo amico, collega, gli aveva chiesto qualcosa, tipicamente era così. Qualcosa anche di meccanica statistica, ve ne parlerò per esempio in particolare della teoria del farmagnetismo, che fa che è interessante, e poi vabbè qualcosa sul farmagnetismo di Paolo. Di fisica nucleare, diverse cose, in particolare anche la teoria dei nuclei, poi vi accenderò dopo qualcosa. Le teorie della diffusione, a parti stati quasi stazionari anche qui, diffusione colombiana e quasi colombiana, questa è una cosa interessante. Quasi colombiana significa invece il potenziale 1 su R, 1 su radice di R quadro più A quadro, cioè un potenziale colombiano regolarizzato, quindi teneva in mente una carica di dimensioni finite. Ed è interessante questo, perché è vero che qualcosa, diciamo, di simile, in quegli anni, in realtà dopo, negli anni 35-36, lo considera pure Heisenberg, però si era posto il problema, mettiamola così. E quindi è interessante, e lo risolve pure a modo suo, ovviamente. E poi di fisica teorica, appunto, anche qui a Iosa, teoria dei gruppi, equazione di Dirac, qualcosa vi accenderò, per spinori con tante componenti, e soprattutto elettrodinamica quantistica a Iosa, insomma, che è un argomento a cui era molto appassionato. Allora, io entrerò qui in un po' di dettaglio, 4-5 argomenti, tra i 4 argomenti, giusto per darvi un accenno che penso che sia abbastanza esaustivo della situazione. Allora, incominciamo con una cosa che vi avevo raccontato la volta scorsa, e quindi che aveva poi pubblicato in un paio di articoli, cioè il problema a due elettroni, o in generale con due elettroni, quindi di fisica atomica. Allora, su questi argomenti, perché, diciamo, è una ricostruzione, non è un articolo pubblicato, vi faccio una slide qui in introduzione al contesto storico, che altrimenti non si apprezza il risultato. Allora, giusto per dire, qui la cosa che dovete tenere presente è che, due cose, dal punto di vista sperimentale e teorico. Al punto di vista sperimentale è che intorno alla fine degli anni 20, quello che si misura abbastanza, abbastanza precisamente, è il valore sperimentale dell'energia di ionizzazione dell'elio, che è questo che vedete, 24, a quell'epoca, che è 24,46 elettronvolti. Uno vorrebbe fare la stessa cosa che era stata fatta, per esempio, con l'atomo di idrogeno, e quindi di ritrovarlo teoricamente. L'unico problemino è che eseguendo l'equazione di Schrodinger per l'atomo di elio, che è questa qua, è chiaro che non c'è soluzione analitica, il problema a tre corpi rimane insolubile, anche in meccanica quantistica, ovviamente, e allora bisogna studiare delle soluzioni approssimate. Il primo che ha trattato l'equazione di Schrodinger per via perturbativa è stato Unsold nel 26, poco dopo la comparsa dell'equazione di Schrodinger, e appunto è una teoria perturbativa, la perturbazione e il potenziale tra i due elettroni, e ottiene il risultato, diciamo, come vedete, analitico significa approssimare z4-5 quarti z, se ci mettete z uguale 2, significa che qua viene 20,31 elettronvolt, che è chiaramente, diciamo, ci ha azzeccato, diciamo, la decada degli elettronvolt, ma insomma nulla di più, e questo, vabbè, perché è complicato. Un passettino avanti lo fa Slater nei due anni successivi, in cui considera il problema a due centri per un elettrone, cioè considera un elettrone, diciamo così fisso, e studia quello che succede da là, e conclude che effettivamente il metodo perturbativo non è che si può spingere tanto oltre la previsione di Unsold, il primo che usa un metodo variazionale per calcolare l'energia allo stato fondamentale, è il primo che lo usa anche in meccanica quantistica, diciamo, è proprio in questo caso, è che nel 27, in cui introduce anche il concetto di carica nucleare efficace, cioè un elettrone che si muove nel campo colombiano, e modificato, diciamo, anche dall'altro elettrone. Poi, leggete i numeri, diciamo, non ci sto molto, ma insomma, li leggete lì, che dà un segnale di quanto la teoria è più o meno buona, e comunque ci stiamo avvicinando, no? Il metodo di Artry si è avvicinato anche troppo, perché l'ha superato un po', e va bene, questo è scontato per chi lo conosce. Il punto di svolta nel caso del calcolo dell'elio si ha con Illeras, con un paio di lavori tra il 28 e il 30, in cui può sembrare una cosa stupida, ma diciamo, qui, il fatto fondamentale è un cambio di variabili. In tutti questi metodi prima di Illeras, le variabili, diciamo, in cui si consideravano le qualsiasi scelte, erano, ovviamente, le coordinate dei due elettroni, R1 e R2, quindi sei variabili. Ovviamente non erano tutti indipendenti, indipendenti ne sono tre, fissando ovviamente i nuclei. E Illeras passa, diciamo, a considerare solamente le tre variabili indipendenti, sono R1 e R2, e l'angolo tra i due elettroni, che è teta. E questo ottenete, diciamo, un valore abbastanza interessante, 24 e 35 elettronvolt, che è già molto vicino, se non fosse per il fatto che dovete arrivare all'ordine 11 dello sviluppo. Però, poiché, diciamo, con questo cambio di variabili si semplifica molto, è complicato fare, a spingersi fino all'ordine 11, però ci riuscite e ottenete un bel valore. Poi, facendo quest'altro cambio di variasembre di Illeras, tipo variabili di Mandelstam, STEU, diciamo così, si ottiene un'approssimazione anche migliore, come vedete, diciamo, fermandosi all'ordine 6. Quindi, qui si capisce che è fondamentale come scrivete l'autofunzione imperturbata, diciamo, o l'autofunzione di prova per il metodo variazionale, e anche le variabili usate. Majorana, come abbiamo visto la volta scorsa, quello che c'è di pubblicare sono i due articoli del 31 sull'ione molecolare di Elio e sui livelli doppiamente eccitati dell'Elio, che usa un approccio perturbativo variazionale, giusto per dire, questa all'approssimazione 0, questo è quello che considera lui, l'energia è meno 2Z quadro, se invece andate all'approssimazione di ordine 11 lui aggiunge un pezzo che 4AZ ha il parametro da determinare, e lui lo fa così giustificandola che l'interazione tra i due elettroni cresce come Z, che è vero, ma si spinge anche all'approssimazione di ordine 2 aggiungendo un altro termine. E come scrive lui, la seconda approssimazione può valutarsi con il medio della variazionale unità di lunghezza, cioè A, che è equivalente all'assunzione di autofunzioni di tipo idrogeno con un opportuno Z efficace, che è Z meno A. Ecco, questa osservazione diciamo più fisica che matematica, anche se ovviamente ci hanno delle conseguenze matematiche, le conseguenze che semplifichi i conti e perciò la riporto. Questo è quello che c'è, diciamo, dentro al lavoro pubblicato. Allora, cosa c'è per esempio nei quaderni? C'è qualcosa anche nei volumetti, vi faccio solo un riassunto, perché sennò dovremmo fare una lezione su ogni argomento che è abbastanza vasto. Allora, ci sono diverse cose interessanti. Allora, uno è che Majorana propone e usa, più che propone, una variante del metodo variazionale di Ritz, diciamo così, che è quello che aveva usato Kellner e che comunque useranno tutti fino ad oggi. Nel metodo variazionale che si fa? Si prende una funzione di prova e poi si calca i valori medi, eccetera. e lui fa la stessa cosa, la funzione di prova, chiamiamola Fi, ovviamente uno gli deve venire una bella idea su come, quale funzione di prova prendere. E vabbè, e questo rimane anche qui. Però poi lui, la variazione non la fa rispetto a questo Fi, la funzione di prova che scelta, come si fa in metodo variazionale. Ma si prende quest'altra espressione. Ma a parte la complicazione qui, la cosa interessante, H è l'emiltoniana del sistema, la cosa interessante è che ci mette proprio H. Qua la variazione, i coefficienti variazionali sono i coefficienti a con 0, a con 1, eccetera, eccetera. Cioè, lui tiene in mente di, bisogna essere sempre abbastanza intelligenti per scegliere la funzione di prova opportuna per applicare il metodo variazionale. Però se poi ci introduciamo qualche informazione sul sistema e questo viene apportato dall'emiltoniana, le cose dovrebbero andare meglio. Questa è l'idea, diciamo così. E ovviamente, come si ottiene l'energia? Ovviamente da un'equazione secolare, che è questa qui, che vedete, è abbastanza complicata. La più piccola delle radici di questa equazione darà il risultato per lo stato fondamentale, ovviamente. Ovviamente, voi se aumentate con quell'n, cioè aggiungete termini, uno si aspetta che i risultati vengano via via migliori. Però qui Majorana si accorge di una cosa, come scrive lui, qua qualcosa è scritto di parole, in genere non è che si trova molto nei quaderni. Il procedimento spesso non converge, perché? A partire da un certo valore di n, H alla NFI, presente eccessive singolarità, che è obbligo a considerare la più combinazione del tipo, quello che vedete. Cioè, vi dovete bloccare, è inutile andare avanti aumentando n, perché poi questa H è elevata alla NFI, introduce delle singolarità, e quindi vuol dire i coefficienti variazionali per cui sono moltiplicate, devono fare zero, perché ovviamente la funzione non può avere singolarità. Qui, diciamo, anche qui è interessante non solo il rapporto tra la funzione di prova e il sistema, l'informazione sul sistema che è introdotto tramite H, ma anche questa relazione con le proprietà, diciamo, chiamate così, di divergenza del sistema, diciamo, che obbligano una certa forma della funzione di prova. Allora, lui fa anche calcoli, ho detto qui, tra virgolette, empirici dell'energia, qua lo trovo soprattutto nei volumetti, e vi segnalo una sola cosa, per non darvi numeri, perché ne fa diversi di calcoli. Qui, una cosa interessante che vi segnalo, è che per ottenere, si accorge, che per ottenere valori più appropriati e semplici, diciamo, per il calco dell'energia, si può, per esempio, pensare di considerare Z, il numero atomico, il numero atomico, come una variabile continua, in cui, all'energia dello stato fondamentale di un dato atomo, e quindi fissato il numero atomico, contribuisce non solo lo Z di quell'atomo, ma anche tutti quelli degli altri, è chiaro che tiene in mente, diciamo, qualcosa tipo lato massa ferme, insomma, no? Questa è la faccenda. Però, un'idea effettivamente interessante, che, in effetti, fa qualche calcolo numerico, e trova delle cose abbastanza interessanti. L'ultima cosa è quella che vi dice su questo argomento, è quello che vi dicevo, qua, il tutto è cruciale, riguarda le funzioni d'onda, e lui ne considera parecchie, evidentemente ci lavora parecchio, probabilmente conosce i lavori di Unzold e Kellner, e molto probabilmente quelli di Slater, io mi sono fatto l'idea che invece non conosce ancora quelli di Hilleras, e probabilmente perché questi li scrive prima. Perché? Perché Majorana capisce come Hilleras, che è meglio concentrarsi solamente sulle tre variabili opportune, però non prende le stesse di Hilleras, sono equivalenti, invece di R1, R2 e Theta, fa R1, R2, R1, R2, la distanza interelettronica, ovviamente, la stessa cosa, è un set di variabili indipendenti anche questa, e quindi è equivalente a quello che fa Hilleras, ma questo denota il fatto che probabilmente è prima. Quindi segnalo solamente una cosa interessante, che per esempio, in questa autofunzione che gli viene in mente, diciamo, mettiamola così, che sono funzioni di prova, chiaramente, introduce anche lui, come aveva fatto Kerner, il concetto di carica nucleare efficace, però diversa per i due elettroni, è chiaro che Kerner e tutti quanti, noi, insomma, anche oggi, perché si mette che questo è un concetto media, carica nucleare efficace media, per cui, ho fatto il primo elettrone, non l'altro elettrone, la carica efficace è il coulomb del nucleo più l'altro elettrone, se cambiate elettrone, media a mezzo, succede la stessa cosa, e mediamente, perché lui allora lo fa diverso, non lo scrive, però leggendo un po', mi ero fatta l'idea, perché, ovviamente, questo come si fa? Si fa la maniera di altri, cioè, diciamo, con integrali, in cui si mette la funzione d'onda degli elettroni, eccetera, in tipo autoconsistente, no? E quindi, se prendete un elettrone o l'altro, diciamo, un po' cambia, e quindi lui lo mette, lo mette qui. E questa è una cosa, effettivamente, non ci aveva pensato nessuno, dà pure delle stime numeriche, poi vi faccio vedere, ed è particolare, generalizza, non conoscendo, quello che aveva fatto Illeras, perché la funzione di Illeras è questa cosa, che vedete, mettendo l uguale a zero, cioè, senza l'altro pezzo, e come vedete, ottenete proprio l'espressione, diciamo, analitica, con questa approssimazione qui, del medioe variazionale. E, giusto per dirvi, Majoran, all'ordine 1, ottiene il valore, con questa funzione, di 24,09 elettronvolt. Meglio di Kellner, che l'aveva ottenuto ordine 4, bisogna aspettare solo l'ordine 11 di Illeras, per andare meglio, però ordine 11, capite bene, diciamo, una scelta, una funzione, manco tanto complicata, insomma, è chiaro che, diciamo, R1, 2, i calcoli, poi non sono semplici, però, già questo, fa capire che, diciamo, era abbastanza intuitivo, mettiamolo così, nel senso di come ho raccontato l'anedito di Wicke la prima volta. Allora, cambiamo argomento, equazioni d'onda relativistiche, abbiamo visto la volta scorsa tutto il lavoro che avevo fatto sull'equazione infinite componenti. Allora, qui giusto per spaventarvi subito, subito, per dare il contesto storico, vi ho inondato, fino al 45, perché proprio mi, non finisco là la faccenda, però, diciamo, arriviamo per quello che ci riguarda l'equazione di Babb. Vabbè, si parte dall'equazione relativistica, diciamo, la prima è quella che chiamiamo di Klein-Gordon, anche se in realtà è la fatta Schrodinger, è prima di quella che chiamiamo l'equazione di Schrodinger, però, vabbè, possiamo chiamare tutte l'equazione di Schrodinger, quindi chiamiamola di Klein-Gordon, che vale, come sappiamo, per spin zero. Poi Dirac per spin un mezzo, dal punto di vista matematico, qui, l'algebra, nelle matrici di Dirac, Lorenz, in quattro dimensioni. Ovviamente, vi segnalo anche questa cosa, un'equazione di, oggi è il nome di Majorano Oppenheim, Majorano pubblico niente, sta riportato da qui, che fa la stessa cosa di quello che ha fatto Oppenheim nel 31, c'è un'equazione d'onda del fotone tipo Dirac, che è questa qua, qui, è interesse, che è questo, no, che ho fatto, aspetta, ecco qua, allora, vabbè, ve la faccio vedere così, facciamo prima, che è questa qui, l'equazione di Dirac, e qui la cosa interessante è qual è l'algebra che sta dietro a quelle, diciamo, matrici di Dirac, che è questa qui, i alfa j, meno i alfa, epsilon i jk alfa k, una cosa, che magari non tutti conoscono, anche De Broglie, nel 34, aveva fatto un'equazione d'onda per il fotone, ah vabbè, poi c'è l'equazione di Majorano e infinito di componente del 32, che è la cosa interessante sulle rappresentazioni infiniti di dimensione del gruppo di Lorenz, nel 34, De Broglie, propose anche lui, un'equazione, che è questa che vedete qua al centro, per un fotone, con una, con una, con due, con tre, con quattro maiuscole, composto, perché lui, si era scoperto nel frattempo, un elettrone, un positrone, che annichilano in fotone, e quindi la cosa veniva in mente, vuoi vedere che il fotone può essere composto da un elettrone, un positrone, allora lui, fa questa equazione qui, con quattro matrici, 16 per 16, come poi scoprirà Paoli, cinque anni più tardi, nel 39, in realtà, questa equazione, non descrive, non descrive, un sistema di due, di due particelle, anche se poi, De Broglie, dopo la modificherà, invece di pensare, un fotone, con un po' saprò, un elettrone, come due neutrini, comunque, insomma, non lo descrive, però qui è interessante, dal punto di vista matematico, poi qualche anno dopo, il 36, si scoprirà anche, e le matrici, 16 per 6, non soddisfano, all'algebra di Dirac, ma l'algebra, qui soddisfano, la scoprirà, PTO, nel 36, poi ripreso, come scrivo qui, da Kemmer, ed è quello che oggi, si chiama, l'algebra di Duffin, che è una generalizzazione, diciamo, dell'algebra di Dirac, qui, in linea di principio, l'equazione per spin arbitrario, è quella introdotta, da Dirac nel 36, e poi ripresa, soprattutto, da Firz e Pauli nel 39, che è questa cosa, che non si capisce proprio niente, diciamo, qua piena di indici, diciamo, che è così, che l'idea, è quella di fare, un'equazione di Dirac, generalizzata, dopo vi accenno qualche cosa, perché è interessante, per la questione di maio, l'equazione di Kemmer, ah, vabbè, l'equazione di maio, l'equazione di maio, l'equazione di maio, per quello, diciamo, il neutrino di maio, che è del 37, l'equazione di Broca, per spin 1 nel 36, Rarita Schwinger, per spin 3,5, Kemmer, con la, diciamo, la decomposizione di Duffin, che, perché si incominciano a comparire, queste equazioni, per sistemi di particelle, per esempio, quello di Kemmer, descrive sistemi di spin 1, più spin 0, perché nel frattempo, si scoprono i mesoni nucleari, e quindi, si cerca anche le, equazioni, per descrivere, questi nuovi stati, fino ad arrivare, diciamo, a una versione, diciamo, a metà, tra quella di Majorana, e quella di Direk, Firz e Paolo, che è l'equazione di Babba, per spin arbitrario, allora, giusto per darvi un'idea, per quello che riguarda, sempre quello che è pubblicato, e basta, per l'equazione per spin arbitrario, vabbè, la prima è quella del 32 di Majorana, che poi la studia pure, Firz e Paolo, che come ricordate, diciamo, ci mettono un po' di tempo, a capirla, però, diciamo, l'ingrediente è quello, sono completamente indipendenti, no, perché come abbiamo visto, diciamo, il problema, c'è un'equazione, per spin, non solo 0 o 1,5, quindi per qualunque spin, il problema lo pone Majorana nel 32, e Paolo, vabbè, pure Direk, non sappia se Direk ha letto, l'articolo di Majorana, probabilmente sì, Paolo è sicuro, come vi ho fatto vedere, dalle lettere, che si scambiava con Firz, Bab, eccetera, l'ispirazione viene da quello, la si risolve in un'altra maniera, che poi vi dico, alla fine si va a finire, in questa equazione di Bab del 45, Bab si rifà direttamente, all'equazione di Majorana del 32, anche perché il suggerimento, glielo dà Paoli, ma sfrutta anche, i risultati di Direk, Firz e Paoli, qui qual è la differenza, tra queste due colonne, è che, diciamo, Firz e Paoli, l'idea è, seguiamo la stessa strada, che ha fatto Direk, per trovare un'equazione relativistica, per spin non un mezzo, e qual è? Allora, spinori, rappresentazione, eccetera, eccetera, poi, poiché, ovviamente queste sono particelle relativistiche, voi dovete ritrovare, la solita, relazione di dispersione, tra energie, e impulso, e quadro uguale, P quadro, P m quadro, no? E come si fa, nell'equazione di Direk? imponendo, che ciascuno, componente dello spinore di Direk, soddisfi, diciamo, l'equazione di Klein-Gordon, che, diciamo, l'equazione quantistica, che rappresenta, l'energia relativistica, la si impone, e da quello, per esempio, Direk, poi ricava, l'algebra delle sue matrici. Allora, Firz e Pauli seguono questa strada qua, cioè, si impone, si scrive un'equazione generale del primo ordine, per spin arbitrario, con tanti indici, come avete visto prima, si impone che ciascuno di queste condizioni, di questi componenti, degli spinori, soddisfino le equazioni di Klein-Gordon, se fate così, diciamo, ci avete un bel po' di problemi, perché, diciamo, ci avete troppe componenti, mettiamola così. Allora, per eliminare bisogna imporre delle condizioni sussidiare. Ok? Vabbè. Ovviamente, se non ci avete spin un mezzo, ci avete spin più alto, qui ci avete più di quattro matrici, però ottenete che, ci avete un'equazione per descrivere una particella, con una massa, uno spin ben definiti, e la massa non dipende dallo spin. Qual è il modo di fare il Majorano, che poi adotta pure Babba? È quello di non imporre l'equazione di Klein-Gordon. Facendo così, diciamo, come fa Majorano per ricavare la forma delle matrici? Beh, imponendola, Majorano lo fa imponendo l'invarianza di Lorenz sull'azione, sostanzialmente. Qual è il benefit? Il benefit è che qua non c'è bisogno di condizioni sussidiarie, che sono un po' bruttine, anche perché non se ne accorgono subito Firz e Pauli, ma dopo poco sì, queste condizioni sussidiarie risolvono, diciamo, il problema se fa la particella libera senza interazione col cambio elettromagnetico. Mettete l'interazione, questa cosa dà veramente problemi che, insomma, non si può risolvere. E quindi, diciamo, è meglio anche, non solo per motivi estetici, non avere condizioni sussidiarie. Facendo così, mi bastano le solite quattro matrici, per esempio, Majorano, già l'abbiamo vista la volta scorsa, che ho babbittale e quale, l'impostazione perlomeno, qual è il prezzo da pagare? E che, come abbiamo visto con la volta scorsa, non c'avete più un'equazione di una particella con una massa e uno spin, ma un'equazione multimassa con più masse, per particelle con diverse masse, per sistemi di particelle con più masse, e più spin, e in cui, come abbiamo visto, la massa dipende dallo spin. Ottenete una cosa o l'altra, non si può avere la moglie ubriaca e la botte piena. Come scriveva Paolo e a Firzi nel Quarano, il sistema di equazioni di Majorano è considerevolmente più semplice del nostro, indubbiamente. Se pure, solo vedete l'equazione, l'equazione di Majorano è l'equazione di Dirac, con matrici diverse, ovviamente. L'equazione di Firzi e Paolo, una cosa che dovete essere pure bravi abbastanza con gli indici, se siete relativisti, ok. Allora, questo è il lato visibile. Cosa ci sta di più e di diverso, per esempio, nei quaderni? Che Majorana fa altre, diciamo così, tre teorie sulle equazioni non a spin arbitraria e generale, ma non a spin un mezzo, che inizialmente, anche io avevo interpretato, vabbè, queste sono le prime teorie, vede come si fa 5 componenti, 6 componenti, 16 componenti, per vedere a infinite componenti come gli deve venire, e in effetti invece non è così. È molto più sottile la cosa, perché lui appunto non parte 5, 6, 16, ma fa tutto il contrario, 16, 6, 5. Ma è chiaro, nei quaderni non sono ben ordinati, uno poteva pensare, vabbè, lui andava a ritroso, no, è proprio la logica, poi studiandoli bene, è proprio la logica che segue, che è diversa. Allora, vediamo, teoria 16 componenti, lui vuole descrivere, qui, mettiamola così, anticipa e di parecchio, quello che aveva fatto, che vi ho menzionato prima, dei broglie, un sistema in due particelle. Lui in particolare, con un sistema in due particelle, uno con massa diversa da zero, e uno con massa da zero. L'equazione è quella che vede, tipo Dirac, sempre, sono praticamente due equazioni di Dirac, con due set diversi di variabili e di matrici, quindi sono 4 più 4 matrici, ma qui 16 per 16, non 4 per 4, che soddisfano algebre di Dirac separate, appunto. Se andate a vedere, qui questa la soddisfa un'equazione tipo Klein-Gordon, ma, come scrivo qua, generalizzata, e generalizzata significa che è sottendente quella relazione lì, per la relazione di dispersione tra energia e quantità di moto. Qui lo si ricollega al fatto, qui è molto prima, non è datato, ma sarà 29-30, quindi è sicuramente molto prima di De Broglie, 30-31, insomma, comunque prima pure della sua equazione infinite componenti. Qui si ricollega al fatto che riesce, diciamo così, dove non era riuscito, che De Broglie, che però, diciamo, non se ne era accorto De Broglie, se ne era accorto solamente Paolo, nel 39, cioè a descrivere un sistema di due fermioni di Dirac. Questo è stato di devoluzione, funziona benissimo, ovviamente. Allora, seconda cosa, teoria a 6 componenti. Qua scrivo un'equazione di Dirac per uno spinore, a 6 componenti. volutamente vi dico spinore a 16 componenti, 6 componenti, eccetera, non vi dico qual è lo spin, è chiaro che la relazione è 1-1, ma perché lui non tiene in mente quello, tiene in mente un'altra cosa. In particolare, qui ovviamente sono le quattro matrici, diciamo, Dirac, sono matrici 6x6, che non so, qua scopre, anche se non lo scrive esplicitamente, ma si è andato a riportare all'espressione esplicita per le matrici, non soddisfano l'algebra di Dirac, come quella, la teoria a 16 componenti, ma soddisfano l'algebra di, di Duffin, Kemmer, e Petio, che vi avevo detto prima. quindi, diciamo, scopre questa nuova algebra 5-6 anni prima degli altri, ovviamente non pubblica dirmi, ovviamente nessuno lo sa, e anche qui, le componenti soddisfano equazioni di Klein-Cordon generalizzate, che vedete qui, che si separa, in una, con energia nulla, la prima, che è soluzione quadru, perché sta doppia V alla quarta, e l'altra, beh, la solita relazione relativistica, energia relativistica, relativistica, e però lui, capisce pure, che queste matrici 6 per 6, si possono fattorizzare, nella matrice 5 per 5, vabbè, una matrice 1 per 1, cioè una decomposizione, di gruppo 6 uguale 5 più 1, nella, lui lo fa, nell'approssimazione non relativistica, in automatico, fa l'approssimazione relativistica, e si ottiene questa decomposizione qua, questo è interessante, perché la decomposizione dell'algebra, di Duffin, che è merito, di Kp, la si ottiene, non l'ottengono manco, i tre biocitati, da Finn, eccetera, ma l'ottiene, Genio, nel 38, e qua, non su 10 anni prima, ma 8, sì, insomma, infine, a teoria 5 componenti, perché 5, e beh, se l'avete visto qui, la prossimazione relativistica, quello tiene in mente, quindi, un'equazione di D, minore a 5 componenti, ovviamente, le 4 mani sono 5 per 5, e chiaramente, perché si ottiene, come decomposizione di quello di prima, soddisfano l'algebra di Duffin, anche qui, avete un'altra equazione, che la incorda generalizzata, e beh, più o meno, è la stessa di prima, quindi qui, il sunto è, che in queste pagine, non tiene, prima, niente a che vedere, con il lavoro pubblicato del 32, ma tiene a che vedere, diciamo, se volete, dei lavori di fisica matematica, più che altro, che scopre, appunto, queste nuove algebra, che poi verranno riscoperte dopo, con la loro decomposizione. Cambiamo argomento, teoria quantistica dei campi, già avevo accennato, l'episodio che, Vic nel 31, al pranzo, qui, proprio a Roma, con Eitler, eccetera, aveva capito, che Majorana, avesse anticipato, quello che poi sarà, la teoria di Pauli Weisskopf, per la trattore dinamica scalare, qui, non ve la ripeto, ma vi riporto solo, la frase di Weisskopf, it was, nel 34, ovviamente, perché è importante, la teoria di Pauli Weisskopf, nel 34, in cui si fa, un'equazione, una teoria dei campi, per spin, diversa da un mezzo, it was a tremendous fun, in working, out, something, that at that time, was quite unexpected, that one can get, per creation, and per annihilation, without direct equation, also for particles, without spin, perché? Perché la gente si era convinta, visto i successi, pure sperimentali, alla scuverta del positrone, eccetera, che se voi volete mettere insieme, meccanica quantistica, teoria della relatività, lo si poteva fare, solo per spin un mezzo, e invece, questo dimostrava, che non era vero, si poteva fare pure spin a zero, ovviamente, cioè ovviamente lo diciamo noi oggi. Allora, cosa fece Majorana, tra la fine del 29 e del 30? È praticamente, la stessa cosa, e lo si trova in questi quaderni, ma, diciamo, non è una mera anticipazione, della teoria di Paoli Weisskopf, perché in realtà, diciamo, l'impostazione è da un lato, un bel po' più generale, in particolare, usa dei sistemi generali, di un DPA, nello sviluppo delle variabili di campo, non quello a cui siamo abituati, si trova in tutti i libri di testo, e introduce, non quattro operatori, per gli elettroni, solo per le particelle di materia, e due per i fotoni, ma quattro più quattro, ma la cosa può sembrare ridondando, perché ovviamente poi sappiamo, che quelli indipendenti per i fotoni sono due, capite, diciamo, che la cosa diventa più complicata, e altre cose, in particolare, uno, quello che già dovreste ricordare, la volta scorsa, lui, è il vero, primo fisico teorico delle particelle, perché è quello che usa, appena in mani, l'approccio variazionale, qui stanno la grangiane, e diciamo, variazioni di azioni uguali a zero, come vedete qui, diciamo, ma io usa dentro, dentro i, i quaderni, ovviamente in notazione un po' diverse, da quelle che usiamo oggi, ma è, è la stessa cosa, ovviamente, come si fa oggi, come ha fatto Paolo Ivaescov, la decomposizione del campo scalare carico, una somma di modi normali, per queste standard, e poi dalle espressioni esplicite, appunto ho riportato queste belle matricione qua, per il numero totale n di particelle, e la carica totale z, perché ve lo riporto, perché lui fa anche, diciamo così, quello che lui chiama, il limite classico, cioè senza antiparticelle, questo lo si può fare, se mettete, invece di n e z, potete riformulare tutto, in termini di altre due variabili, l e m, che vedete lì, m, diciamo, descrive queste antiparticelle, se ponete il campo associato a m uguale a 0, praticamente è stato un limite classico, quindi, come vedete, diciamo, anche un po' oltre, diciamo, quello che poi sarà di Paolo Ivaescov, volendo rimanere solamente al fatto dell'elettrodinamica, qui siamo nel 29-30, e quindi non ci sono ancora i positroni, ci sono solamente protoni ed elettroni, e lui, infatti, questo pensa, anche perché l'equazione di Dirac è del 28, ma l'interpretazione delle lacune che c'è nell'equazione di Dirac come positroni, cioè un elettrone positivo, è del 31, dopo che Weill dimostrerà che l'equazione di Dirac e i due stati di, diciamo, particelle e antiparticelle devono avere la stessa massa. Prima di dimostrarlo Weill nel 31, la gente che pede con Dirac per primo, è una carica positiva, una carica negativa che deve essere un elettrone e un protone, diciamo, è chiaro adesso, uno dice, beh, sono 2000 volte più pesante, ma non lo si era capito. Ma stiamo ancora nel 29-30. Dove trovate sistemi di protone ed elettroni insieme, non solo a livello atomico? Se ve lo ricordate, nei nuclei, perché all'epoca la gente pensava che non c'era ancora il neutro, la gente pensava, ovviamente con tutti i problemi che ho segnalato la volta scorsa, che i nuclei fossero fatti da protoni ed elettroni. E allora non sorprende che Majorana fa un'applicazione di questa teoria, e probabilmente perciò gli viene in mente di studiare questa elettrodinamica scalare, applicazione al nucleo atomico. Dice, vediamo, si può fare qualcosa, diciamo, a descrivere il nucleo atomico? Allora, in una lettera gentile del 29, si capisce che gli viene in mente che deve succedere qualche cosa che non va bene, diciamo, che i protoni ed elettroni. Come scrive qua, il problema dell'aggregazione dei protoni ed elettroni dei nuclei mi pare non sia suscettibile di ricevere soluzioni, sia pure approssimato, se non quando sia risolto il problema della costituzione degli stessi protoni ed elettroni, cioè l'interazione, diciamo, noi diremmo nucleare. Io sono portato a credere che i protoni ed elettroni si compenetrano nei nuclei in un senso che non è quello della meccanica ondulatoria, in un senso, cioè, non passibile di interpretazione statistica. questa lettera del dicembre del 29, l'esperimento di Rasetti che aveva accennato la volta scorsa già c'era stato e quindi si era capito che se voi volete per forza mantenere gli elettroni di nuclei, l'elettroni di nuclei dovrebbe perdere il suo spin, insomma, mettiamola così. E quindi va proprio bene questa teoria che lui probabilmente per questo fa questa teoria. E in effetti si costruisce lo troviamo questo è il ricostruito il disegnino ma avete visto prima il disegnino originale nella pagina dei quaderni. Costruisce proprio gli stati nucleari permessi. Questo è quello che diremmo oggi un diagramma massa carica degli stati nucleari permessi e addirittura l'obiettivo della teoria nucleare è anche di spiegare le transizioni nucleari legati a mente beta, alfa, beta, eccetera fa anche uno schema delle transizioni possibili permesse dalla teoria tra nuclei di diverse nz si può andare da nz da n più 1 z meno 1 eccetera eccetera ma per esempio non si può andare qui direttamente ovviamente questo dipende da come sono fatte le matrici che vi ho fatto vedere prima di nz ovviamente se c'è 0 perciò non si può fare ma lui appunto questi schemi li disegna esplicitamente quindi vuol dire se era posto il problema e se era posto il problema probabilmente per il motivo che vi ho detto andiamo avanti insieme alla teoria quantistica dei campi un'altra cosa appunto lui l'elettro dinamica la studia quantistica la studia parecchia un'altra cosa che considero in dettaglio della diffusione fotone elettrone l'effetto compito e generalizzazione ovviamente anche qui un piccolo accenno sul contesto storico allora qui non serve spiegare diciamo la formula cinematica per lo shift compito quello è un semplice esercizio cinematica relativistica come aveva fatto a vedere fermi neanche necessariamente relativistica comunque ma è quello di vedere la sezione quella che oggi chiameremo la sezione d'urto c'è la probabilità di diffusione allora Compton suggerisce una formula più o meno classica ad hoc per un orto elastico tra fotone ed elettrone l'elettrone sta fermo nello schema di Compton un primo approccio però da vecchia teoria dei quanti perché siamo nel 25 di una forma di dispersione la danno Kramer e Heisenberg che poi viene diciamo riformulato quantisticamente quelli che si impegnano a livello di meccanica quantistica però sfruttando le equazioni di Schrodinger cioè non relativisti sono Dirac da una parte e Gordon dall'altra è ovviamente un metodo è semiclassico perché l'elettrone è quantizzato e il fotone no insomma quindi non è pienamente teoria dei campi nello stesso schema è la formula famosa di Klein e Nishina del 28 che usano l'equazione di Dirac ma qui è lo stesso più o meno schema di Gordon insomma come determina Klein e Nishina la formula che ovviamente è verificata benissimo si si è capito che la formula è quella giusta perché gli esperimenti la confermano molto bene la trattazione puramente quantistica verrà due anni dopo da Waller da una parte e Tam dall'altra che diciamo ricavano la formula di Klein e Nishina in uno schema da teoria quantistica dei campi mettiamola così qui sia radiazione che materia sono quantizzate qual è la differenza tra l'impostazione di Klein Nishina e Waller Tam è che se fate diciamo alla Klein Nishina cioè meccanica quantistica relativistica meccanica quantistica cioè prima quantizzazione diciamo così la transizione della fotonella è una transizione diretta cioè del primordine allo stato iniziale a uno stato finale mentre invece come fanno vedere Waller e Tam in realtà diciamo c'è bisogno di stati intermedi in realtà la transizione avviene al secondo ordine oggi con i diagrammi di Feynman è scontato però all'epoca non c'erano ancora per cui gli stati intermedi sono quelli intermedi tra l'assorbimento del fotono iniziale da parte dell'elettrone e la riemissione di un altro fotono da parte dell'elettrone se uno ha in mente il diagramma di Feynman questa cosa diciamo è evidente però all'epoca non c'era diciamo non era una cosa semplice da determinare soprattutto Waller e Tam fanno vedere che è importante sommare in questi stati intermedi elettronici anche gli stati ad energia negativa perché se non lo fate non ottenete la formula di Klein inizcina cioè il positrono già da sta insomma questo mentre invece la formula classica di Thomason la si ottiene sommando solo paradossalmente sugli stati ad energia negativa questo è il quadro di riferimento vi continuo un attimo con l'inquadramento storico perché poi la gente va pure oltre perché se invece del fotone diciamo molto energetico sull'elettrone fate andare a urtare un fotone un soft di X-ray cioè con energia non esageratamente grosse perché non è che qua diciamo lo fate andare a urtare su un gas di elettroni liberi ma sono sempre elettroni atomici si incomincia a sentire l'effetto del legame degli elettroni nella diffusione per cui la formula cambia e la gente se ne è raccorta innanzitutto dal punto di vista sperimentale diciamo allora dal punto di vista teorico abbiamo una generalizzazione della formula di Grimer-Seisenberg per elettroni legati appunto alla GX di bassa energia e questo la incomincio a considerare Benzel Gregor Benzel nel 27 dal punto di vista sperimentale cosa cambia cambia che la riga Compton della radiazione diffusa se tenete conto dell'effetto del legame atomico si allarga e questi sono gli esperimenti di Dumont dal punto di vista teorico Waller e Artry nel 29 ricavano diciamo una formula di Benzel per diffusione stavolta sia coerente che incoerente su gas monoatomici Block poi la generalizza anche per orbite elettroni superiori vabbè senza entrare troppo nel dettaglio l'altra cosa interessante dal punto di vista sperimentale l'esperimento rossa e Kirkpatrick in cui si vede che la riga Compton incoerente diciamo propriamente detta Compton è spostata di meno quando ci mettete l'effetto del legame rispetto alla riga Rayleigh che è coerente la diffusione coerente questo è l'approccio diciamo il framework storico che c'entra Majorana in tutto ciò allora c'entra per diversi punti allora partiamo prima dalla diffusione su elettrone libero che era la prima parte che ho fatto vedere allora l'idea che usa Majorana sono le stesse di Waller e Tam ma indubbiamente insomma con un formaggio un bel po' più trasparente sembra quasi alla diagrammi di Feynman di oggi ma senza diagrammi di Feynman almeno senza il disegnino dei diagrammi di Feynman allora qui appunto i punti di partenza sono elettroni di Dirac e il cambio elettromagnetico quantizzato qua come fa Majorana non c'è la questione facciamo stati intermedio o non stati intermedio sono per forza e sono garantiti diciamo dalla presenza del termine interazione lineare il cambio elettromagnetico è quello che vedete evidenziato dalla freccia allora qui vi ho riportato sopra come lo fa che cosa intende Majorana stati intermedio e qua come lo faremo oggi con i diagrammi di Feynman e vabbè i diagrammi di Feynman sono la protezione di questi due diagrammi appunto coerente e incoerente fotone elettrone stati intermedio ovviamente stati intermedio elettronici ovviamente e poi viene rimesso il fotone e vabbè questo è il è il caso incoerente allora non trovate nessuna cosa grafica in Majorana ovviamente no ma trovate quello schermine che è riprodotto là allora non voglio tetearvela alla lunga qua c'è un fotone nella prima parte 0 nella seconda e 1 nell'ultima parte 1 0 1 qua c'è giusto per farvelo vedere praticamente Majorana teneva in mente proprio lo schemino ovviamente non grafico chiaramente queste opere di Feynman indubitabilmente però diciamo ragionava negli stessi termini in cui ragionava e questo che gli permette di ottenere con un formalismo come scrivo sopra più elegante e modello praticamente gli stessi risultati praticamente gli stessi risultati diciamo praticamente significa veramente un po' di più perché la prima cosa che ottiene è una versione della teoria quantistica dei cambi della formula di dispersione di Gramm e Heisenberg questo è come la scrive lui non come la scrive in termini modelli insomma è quella là e da questa ricava diciamo fa l'applicazione particolare ovviamente si considera gli stati elettronici in termini sia in energia positiva che negativa e come caso particolare diciamo così applicato al caso specifico ottiene la formula di Klein Nishina che la riporta come la riporta Lugge se vi ricordate l'espressione di prima diciamo è tale qua la normalizzazione è diversa ma la formula ovviamente è la stessa e il passaggio perciò è più elegante non si arriva diciamo lo scopo è ricavare la formula di Klein Nishina facciamo tutta la teoria coerente e quindi prima la formula di dispersione e poi ricavare la probabilità di transizione e già questo diciamo sarebbe abbastanza ma poi lui considera anche l'effetto del legame degli elettroni nel caso che usate SoftX race come lo descrive descrive un sistema generico di F elettroni legati descritto nella funzione d'onda collettiva quindi non fattorizzata lui considera il caso particolare che ha stessa energia iniziale e finale gli elettroni iniziale e finale hanno la stessa energia questo come lo si può realizzare beh in due modi possibili uno appunto quello che dà luogo alla diffusione risonante con diciamo il primo diagramma con zero fotoni nello stato intermedio c'è la transizione elettronica non stata eccitata da cui viene rimesso un fotone il primo diciamo diagramma o fa e ma non mai orane che avete visto sulla sinistra e l'altro modo possibile la diffusione non risonante con uno stato intermedio con due con due fotoni bonus ottenete l'allargamento della riga ovviamente come lo ottenete beh come facciamo oggi e come diventerà tradizionale dopo Weisskopf Wigner del trend qua siamo un poco prima come aggiungendo una vita media finita t per lo stato elettronico eccitato uno su due t l'ultimo termine che vedete lì cosa che per esempio non fanno Ull-Eretam Benzel neanche insomma appunto i primi che lo fanno sono Weisskopf e Wigner lui ottiene ovviamente perché poi lo schema il formalismo è quello una volta messi gli ingredienti più o meno si viene ottiene la generalizzazione come si generalizza la forma di Kramer e Seisenberg sempre da teoria quantistica dei campi nel caso in cui c'è una vita media finita per descrivere l'allargamento della ricca eccetera e più qua c'è una cosa che io non ho trovato oggi si studia ma in un ambito diciamo sicuramente non c'aveva quello in mente ma io ora qua ho scritto perché perché lui considera anche un'altra generalizzazione se oltre a fatto dell'allargamento di ricca è una vita media finita se gli elettroni non solo sono legati ma viene applicato anche un campo magnetico variabile in particolare sinusoidale cosinusoidale come vedete lì qui la domanda che non ho trovato risposta ma perché fa questo esercizio perché diciamo dovreste averlo capito già dalla volta scorsa anche da questi primi esercizi Majorano è sostanzialmente molto ancorato alla fenomenologia sì gli vengono le belle idee in mente ma diciamo è un fisico teorico non è un fisico matematico mettiamola così per cui doveva avere in testa qualche cosa e qui ovviamente non è il fatto vabbè c'è il campo ci mettete gli elettroni in un atomo e l'atomo in un campo magnetico alla Ziemann per intendere che ovviamente l'effetto è tremendamente subdominante infatti quando all'epoca feci un po' di studi andate a vedere ma oggi si considera questo effetto sì e dopo per esempio nelle stelle diciamo o in campi magnetici esageratamente forti insomma se no l'effetto non lo vedete chiaramente già diciamo l'effetto del legame degli elettroni è subdominante figuriamoci questi altri effetti quindi chissà certamente nessuno ci stava pensando a fare gli esperimenti all'epoca chissà perché gli era venuto in mente ecco lascio qui la domanda allora l'ultima cosa in dettaglio che vi faccio vedere riguarda la fisica statistica perché un'altra cosa molto interessante non si aspettava che Majorano avesse affrontato anche il ferromagnetismo come sapete bene diciamo il ferromagnetismo si basa sul modello di Ising del 25 e la teoria diciamo è quella di Heisenberg o le forze di scambio che sono responsabili del ferromagnetismo che è del 28 la teoria che fa Majorano probabilmente è successiva ad Heisenberg o comunque coetane certamente non prima mettiamola così infatti qua scrivo 29 30 più o meno allora qui non trovate la stessa teoria diciamo del ferromagnetismo di Heisenberg cioè l'impostazione ovviamente sia nei metodi matematici usati che sono abbastanza famosi in Heisenberg che nei risultati ottenuti nella teoria di Majorano si va ben oltre i risultati di Heisenberg allora qui il punto di partenza viene sempre il modello di Heising con forze di scambio insomma l'idea è sempre quella e un po' mettiamola così rispetto ad Heisenberg c'è il fatto che gli spin up e spin down dei magnetini elementari sono descritti in Majorano da funzioni d'onda che hanno la forma di determinanti di Slater cioè per intenderci si tiene conto ab inizio del principio di esclusione di Pauli cosa che certamente non è che ci stava a pensare a Heisenberg al suo tempo ovviamente perché non ci stava a pensare perché ovviamente fatto così si complica tremendamente il trattamento allora poi c'è un'altra cosa interessante la funzione di partizione del sistema Heisenberg lo ottiene diciamo così se lo vogliamo se vogliamo un po' nobilitare diciamo esagerare un pochettino tipo diciamo tipo teoria dei gruppi insomma esageriamo insomma un po' fumosi soprattutto per lui insomma ci sarebbe stato bene in Majorano invece Majorano qua no lo deduce la funzione di partizione a qualsiasi differenziale non è che c'è sta la qualsiasi differenziale risolvete la funzione di partizione ma potete ricavare ovviamente però diciamo un'impostazione un'altra bella qualsiasi differenziale vabbè questa qua che vedete qui ovviamente poi la risolve eccetera eccetera la funzione di distribuzione normalmente come si fa beh ci si ferma all'approssimazione gaussiana cioè al secondo ordine ovviamente a primo ordine viene zero ovviamente e Majorano è chiaro che Majorano e quindi altra che approssimazione gaussiana perché fermarsi all'ordine 2 arriviamo all'ordine 10 non è un esercizio di bravura teorica perché diciamo vuole fare le cose per bene e in effetti le fa trova l'equazione per la magnetizzazione media che ovviamente vista l'impostazione è diversa nella forma da quella dedotta da Eisenberg o quella per esempio da Weiss che però ammette diciamo anche qui una soluzione non banale in assenza il ferromagnetismo è che voi spegnete il campo magnetico e continua a starci la magnetizzazione quindi dovete mettere a Q uguale 0 e la magnetizzazione deve venire 0 e infatti se mettete a Q uguale 0 diciamo S non viene 0 mettiamola così quindi c'è una soluzione non banale anche nella teoria e quindi diciamo sta descrivendo una transizione ferromagnetica ovviamente al di sotto della temperatura critica insomma il campo è non nulla perché voi ho detto qui diciamo si otterrebbero in maniera diversa gli stessi risultati della teoria di Eisenberg perché va oltre e perché come sapete bene diciamo la transizione ferromagnetica non si può avere non c'è avuto un sistema ferromagnetico in una dimensione dovete avere almeno di due diciamo o superiore ovviamente questo risultato fu diciamo capito da Byers nel 36 nella teoria di Majorana invece questo viene addirittura automatico lui prevede che deve essere diciamo dimensioni maggiori di 1 anzi di 1,44 lui si non so proprio il numero preciso perché se no non c'avete la temperatura critica del sistema questo qui lo deduce diciamo l'1,44 ebbe 1 sul logaritmo di 2 il fatto che ci sia una temperatura critica lo deduce diciamo così io l'ho fatto vedere in quel grafico vedete solo per eta maggiore di così si ha l'intersezione della magnetizzazione con quella retta vabbè diciamo giusto per farvi vedere un'idea però qui è un fatto fondamentale diciamo perché la gente vabbè è chiaro se ne ero più o meno accorte già dai tempi di Eisenberg diciamo così sperimentalmente mettiamola così il risultato teorico diciamo è di tutto rispetto è una deduzione sto 1 sul logaritmo di 2 a me non mi ha sconvolto ma insomma mi ha particolarmente colpito in più poi appunto sempre il legame con la fenomenologia studia anche delle particolari configurazioni catena lineare triangolare di magnetine elementare esagonale insomma non fa molti calcoli però li considera come cosa che ovviamente descrivono vari tipi di ferromagnetismo allora in dettaglio penso che basti così vi cito giusto qualche altro esempio perché effettivamente giusto per farvi capire la mole diciamo di lavoro fatto a Majorano è parecchio allora nei volumetti trovate prima accennato diciamo a questo pseudodiagramma di Feynman allora uno scambio di fotoni scrivo alla Feynman qui ma diciamo solo a livello diciamo di mentale cioè senza fare applicazioni teoriche c'è perché qua poi Majorano era ancora studente tra le parecchie questo lo troviamo nei volumetti questo scambio di fotoni alla Feynman c'è elettroni che interagiscono a distanza elettromagneticamente scambiandosi i fotoni insomma quest'idea la si ritrova appunto da studente nel 28 diciamo quasi nel 27 28 in una ricerca che fa per cercare una diciamo così una relazione tra le costanti fondamentali e H e C la trova un modellino meccanico la trova la relazione e la relazione sbagliata e accorge lui che è un fattore recente insomma il modellino era un esercizietto però è l'idea che ci sta dietro poi nei volumetti trovate dopo l'incontro con Fermi tutta una serie di applicazioni che riguardano il modello di Thomas Fermi sia ioniche molecole anche parecchie cose interessanti non ci abbiamo tempo a far vedere tutto in dettaglio ho accennato la volta scorsa sulla faccenda degli stati quasi stazionari diciamo in fisica atomica diciamo alla Fano per intenderci nei volumetti trovate gli stati quasi stazionari applicati per la prima volta anche in fisica nucleare come avevo accennato la volta scorsa qua nei volumetti siamo dove Majorana studia le reazioni che oggi chiameremo alfa P cioè la trasformazione di fusione alfa che dà l'uco un protone nello stato finale generalizzando il modello di Gamow che lui l'aveva considerato nella sua tesi di laurea e in realtà questo è contemporaneo cioè siamo fine 28 inizio 29 i volumetti sono datati poi diciamo qua non nei volumetti nei quaderni ma gli appunti che poi sono stati associati al al corso di fisica teorica ma certamente facendo parte del corso di fisica teorica a Napoli si trova qui un approccio matematico a quello che poi diventeranno i pati integral di di Feynman ma qui diciamo come scrivo qua solo l'essenza fisica l'idea è più o meno la stessa di quelle di Dirac del 33 insomma ma non fa conti eccetera quindi qui diciamo non anticipa niente però qua la cosa interessante è che mentre nei pati integral di insomma l'impostazione di pati integral è un ruolo fondamentale che svolge la matematica e poi uno ha l'interpretazione fisica del formalismo matematico qui Majoran fa esattamente il contrario il contrario nel senso parte sulla interpretazione fisica il che vuol dire che diciamo doveva avere in mente le cose come stavano diciamo in quest'ottica perfino senza fare diciamo conti con le lagrangiane di Dirac eccetera eccetera che è una cosa abbastanza notiva insomma io prima di questo insomma non mi immaginavo se potesse fare un pati integral diciamo for dummies cioè senza la matematica mettiamola così poi vabbè appunto di elettrodinale quantistica ha fatto tante cose quantizzazione della teoria di Dirac delle lagune e tante altre cose anche collegate per esempio la faccenda diciamo così del teorema spin statistica cioè connessione sulle variabili che è comune e non comune oppure con la faccenda delle divergenze nell'elettrodinale quantistica e tante altre cose insomma finisco abbiamo iniziato questo ciclo di lezioni con la famosa frase di Fermi su Galilei e Newton eccetera eccetera non mi concludo questo ciclo con una con la stessa frase di Fermi anche perché non lo so diciamo non vi dico la mia ma probabilmente diciamo avrete capito che Fermi non aveva poi tanto esagerato ma vi concludo con un'altra frase di un altro ragazzo di via Panisperna che era Amaldi scritto negli anni 60 tutti sono rimasti con un senso di frustrazione per tutto quello che il suo ingegno non ha lasciato ma che avrebbe potuto produrre soprattutto un senso di profondo e ammirato stupore per la sua figura di uomo di pensatore che era passato tra noi così rapidamente come un personaggio di Pirandello carico di problemi che portava con sé tutto solo un uomo che aveva saputo trovare in modo mirabile una risposta da alcuni questi di della natura a tanti ma che aveva cercato in vano giustificazione alla vita la sua vita anche se questa era per lui di gran lunga pur ricca di promesse di quanto essa non sia per la stragrande maggioranza degli uomini penso che possiamo diciamo concordare non solo da quello che ho fatto vedere oggi ma pure della volta successiva della volta precedente effettivamente diciamo di gran lunga più ricca di promesse per quanto esse non sia per la stragrande maggioranza e qua come al solito ci sono i soliti riferimenti se vi interessa approfondire grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione